Qual è il messaggio della vostra presenza qui? Perché siete qui? Ma perché noi ci occupiamo nel mondo degli eventi dello sviluppo di una piattaforma digitale per gli stessi e questo è un evento sulla comunicazione a volte per i sensi del settore quindi per noi è rinunciabile essere in questo momento. Secondo lei com'è cambiata la comunicazione negli ultimi anni? Negli ultimi anni, già da tanti anni ormai i social hanno cambiato il modo di comunicare hanno cambiato il modo in cui ci rivolgiamo a clienti e potenziali e hanno anche cambiato il modo in cui dobbiamo ascoltare quindi riceviamo dei messaggi di feedback dai social ma dobbiamo anche ascoltare personale all'interno tramite strumenti di piattaforma operando nel mondo degli eventi il mondo degli eventi che di base è un mondo reale e non virtuale invece rimane ancorato al discorso delle relazioni ma tramite strumenti digitali consente di acquisire il feedback e consente di fare comunicazione. Se lei dovesse scegliere un hashtag scelto da voi che meglio vi identifica quale sceglierebbe? Qual è l'hashtag migliore? Potrebbe essere virtuale ma reale dato che parliamo nel mondo degli eventi con questo momento però di utilizzare La ringrazio